La posta in gioco è così radicale, così grande, che in questa partita vale tutto. In questa partita vale tutto. Tutti gli strumenti di lotta sono legittimi di fronte alla portata della sfida di cui stiamo parlando. Perché stiamo parlando di una cosa che mina le basi stesse della convivenza, della sopravvivenza, e dunque è qualcosa che legittima ogni forma di lotta. La sola cosa che bisogna tenere presente è l'opportunità, sono le condizioni in cui si svolge. Ma non siamo in una situazione normale, siamo in quella situazione eccezionale che delineavi all'inizio, che fa pensare a non pochi che non c'è niente da fare, che la catastrofe ci è addosso, ci è successo. Quindi questa è una tipica situazione in cui è legittimo qualunque forma di lotta, la più radicale, la più dura, ma che deve essere sempre la forma anche intelligente. È un po' il ragionamento che fa Andrea Smalm in più luoghi, non solo nell'ultimo famoso libro, anche negli altri, ma che fanno anche altri. Proprio perché la determinazione è una componente decisiva della capacità di convincere le persone che si può reagire, altrettanto che la chiarezza del modo in cui se ne può uscire. E questa cosa fornisce molte opportunità di azione, perché fornisce l'opportunità dell'azione militante, l'opportunità dell'azione organizzata dai movimenti, opportunità di creare luoghi in cui la transizione la attui già. Prima citavo le comunità energetiche, per dire, oppure tu citavi forme di ricerca che escono dalla carne sintetica, impropriamente detta sintetica, diciamo, perché sembra alludere a qualcosa che si fa a Legni, a Marghera. Abbiamo fatto di tutto qua, ma ancora la carne sintetica no. No, è carne naturale in realtà, è carne coltivata, diciamo così, che non implica l'uccisione di animali, eccetera. Proprio per quelli che non possono o non vogliono farne a meno. Ma in tutte le direzioni la ricerca può produrre immediatamente alternative. Il problema più grosso ce l'abbiamo sul piano della creazione delle condizioni politiche che sviluppano queste alternative e le sviluppano nel presente. E ovviamente chiudono invece le fonti inquinanti e le fonti fossili per quanto riguarda il consumo, reccedono dove ci sono centrali nucleari, no, e dove vorrebbero riportarci come Salvini, che si è svegliato l'altro giorno annunciando che in cinque anni avremo la prima centrale e in dieci la prima produzione, no, gli impediscono di fare queste cose qua, no. E più tutte le altre cose che si fanno, che anche qua nel nostro territorio si fanno nella direzione sbagliata, gli inceneritori, il consumo di suolo, eccetera, no, dove l'azione, dove la lotta è praticabile direttamente, no. Ma a mio parere vale tutto, quindi, solo l'unica cosa che discrimina è l'opportunità per non sollevare una pietra che ti ricasca in testa, come diceva quel tale, no, accompagnato però sempre non dall'azione fine a se stessa, ma dal fatto che sei dentro un percorso che mostra che puoi andare da qualche parte uscendo da questa tempesta o da questo brivido caldo, diciamo così, no, da questa oppressione del calore, no, del calore globale, no, il calore che patiamo è il calore che patisce ogni atomo, ogni molecola, no, cioè la struttura fisico-chimica del pianeta patisce questo calore, no, in cui noi siamo immersi, a ricordarci che noi siamo corpi, no, non è che noi abbiamo un corpo, noi siamo un corpo, no, e siamo un corpo col pianeta, con la biosfera, no, questa cosa che è un'acquisizione fondamentale del pensiero femminista, anche di un certo pensiero ecologista, no, e della loro combinazione, che è forse la forma più radicale dell'oggi, no, specialmente quando viene dal sud del mondo e quindi fa il triplete, diciamo così, no, questa cosa qua va fatta comprendere, no, e va fatta comprendere come un manifesto della transizione, non come un manifesto dell'Apocalisse interpretata, non come rivelazione del possibile, ma come rivelazione della catastrofe e basta, perché questo appunto consegna masse intere alla disperazione, a volte all'opportunismo e quindi alla narrazione della destra, insomma, quella più sofisticata e quella più becera, no, che su questo costruisce in vari paesi, soprattutto nel nord del mondo, dove c'è qualche privilegio da difendere, perfino nelle classi che hanno più problemi, no, rispetto all'immane disastro del sud del mondo, no, e li consegna quindi una prospettiva reazionaria, letteralmente reazionaria, cioè alla regressione, no, culturale e politica, ma anche alla regressione nel modo di immaginare il mondo, perché la vera sfida è lì, no, immaginare un mondo possibile, no, e costruire l'utopia nella forma della transizione, no, cioè non è un luogo dove non arrivi mai perché in realtà non esiste, è un luogo praticabilissimo perché un pezzo te lo puoi già realizzare qui e ora e un altro grande pezzo lo puoi realizzare, no, attraverso la mobilitazione di forze che a quell'orizzonte guardano, sapendo che lo avvicini davvero, non è che si allontana, lo avvicini perché nel frattempo costruisci la transizione. Questa cosa bisogna trovare il modo, disperatamente, razionalmente, furiosamente, di spiegarlo, di raccontarlo, perché se no la partita è politicamente persa, politicamente, ma politicamente significa quello che è nello spazio del nostro fattibile oggi, quindi rischiamo per un lungo periodo di non poter confidare in nient'altro che in quella famosa reazione del pianeta, no, che secondo alcuni, lo pensiamo in pochi, devo dire, no, che l'antropocene sia finita e che sia cominciata un'epoca in cui ciò che marca il mondo è la reazione del pianeta e non ciò che noi imprimiamo sul pianeta, che è il modo in cui di solito si misurano le epoche, no, cioè quello che segna globalmente un pianeta trovi delle tracce e quella è l'età, è una certa età, insomma, no, si discute se da 50, da 200 o, come dice Morton, da 12.000 anni, da quando è cominciata la rivoluzione agricola, no, questa sia l'antropocene, no, segnata dal fatto che noi condizioniamo il pianeta, ma questa fase, alcuni pensano, è finita e siamo nell'epoca in cui è il pianeta che condiziona anche le cose che facciamo noi, tanto è vero che costruiscono, fanno opere magari sbagliate come il mose, magari giuste come le bonifiche, magari sbagliate come forme di greenwashing per l'appunto o investimenti invece in ricerca in qualcosa che va nel senso giusto, perché? Perché dobbiamo inseguire il pianeta che si è messo a correre in un altro modo, ma al di là di come la si valuti, antropocene sì o oltre l'antropocene guidati dalla reazione del pianeta, resta il fatto che queste cose dobbiamo farle, lì è lo spazio dei movimenti, lì è lo spazio della politica, cioè è lo spazio che abbiamo la possibilità di occupare. Mi vorrei ricollegare a una parola che hai usato prima Gianfranco, che è quella della rigenerazione, a un certo punto hai usato questo termine rigenerazione che era qualcosa che avevo peraltro appuntato anch'io, è una cosa che a me sembra abbastanza chiara anche riguardo appunto a quello di cui si discuteva prima, rispetto alle capacità del capitalismo di ristrutturarsi in modo tale da essere compatibile con i limiti della biosfera, o quantomeno, e soprattutto per esempio in riferimento al Green New Deal, pensiamo anche all'idea della creazione di lavori verdi, di possibilità appunto anche un po' in quel caso di rilancio tra virgolette dell'economia reale sulla base di processi rigenerativi e del fallimento di questo orizzonte. Una delle mie sensazioni è che qui sia una delle chiavi su cui ragionare anche a livello trasformativo, ossia a me rigenerazione comunque è un termine che richiama una serie di altri concetti come quello di riproduzione, come quello di cura, che mi sembra che, forse non sembra solo a me, che siano intrinsecamente in contraddizione con questo sistema, che invece, e perché? Perché riproduzione, cura, rigenerazione di qualcosa che esiste, sono dei processi che hanno a che vedere con il limite, cioè che in qualche modo devono fare i conti con dei limiti che sono dei limiti fisici, anche che hanno a che vedere con altre dimensioni che possono essere quelle psicologiche, relazionali, affettive, perché ci richiedono di confrontarci con ciò che esiste, con la sua ciclicità, con la sua capacità di divenire, anche con la sua capacità di essere sempre qualcosa di differente, ma sempre qualcosa di limitato, qualcosa appunto non espandibile all'infinito, e in questo mi sembra che sia quasi una parola che a me richiama molto un orizzonte femminista, ecco femminista, ecco transfemminista, chiamiamola come vogliamo, che mi pare intrinsecamente in contraddizione con le logiche che invece regolano le relazioni di riproduzione attuali. Per cui pensare un'alternativa nel contesto della crisi mi richiama la necessità di creare degli spazi dove praticare delle relazioni capaci di cura, di rigenerazione, chiamiamola anche di etica della cura, e in realtà questi spazi esistono, ed esistono, cioè forse anche un tema su cui vale la pena ragionare forse non mettiamo sempre a fuoco, è il fatto che chiaramente l'idea, ecco avevi menzionato che prospettive di trasformazione ci sono anche a livello individuale, chiaramente il tema della responsabilità individuale nei confronti del pianeta o dell'ambiente è qualcosa che è stato cavalcato tantissimo nei decenni passati, fondamentalmente come modo per scaricare la responsabilità sugli individui che non ne potevano niente, e quindi appunto assolutamente lungi da me appellarmi a questo tipo di retorica, appunto cosa posso fare io come singolo rispetto a questo. Tuttavia, quello che, su cui forse ci si può collegare per la costruzione di pratiche quotidiane, che non vuol dire quotidiane in senso di individualizzate, possono essere pratiche quotidiane di movimento anche, è il fatto che costantemente viviamo in relazioni che hanno a che vedere con la rigenerazione, con la cura, con la riproduzione, e quindi le conosciamo, cioè le conosciamo sui nostri corpi, in particolare poi appunto anche questo è molto stratificato per genere, per razza, per classe, e quindi ci sono alcune soggettività che sono forse più in contatto con questo tipo di pratiche. Però valorizzare le sensibilità che ci permettono di vivere in delle relazioni, che poi sono sempre delle relazioni che non sono mai solo sociali, cioè anche per esempio, facendo un esempio banale, del fatto di prendersi cura di altri soggetti umani, che possono essere i bambini o gli anziani, che sembrano semplicemente delle relazioni sociali, sono sempre delle relazioni multispecie, e in queste relazioni multispecie, andando a studiarle, andando a guardarle, ci rendiamo conto che, soprattutto in un momento anche di consapevolezza rispetto alla crisi ecologica e climatica, mettere in pratica delle relazioni di cura nei confronti, per esempio, dei propri figli, soprattutto, questa è una cosa molto evidente, perché chiaramente i figli creano un orizzonte di temporalità, però non deve essere necessariamente dei figli, deve essere comunque delle persone più giovani, ma anche delle nostre stesse persone, tutte queste pratiche coinvolgono delle considerazioni che hanno a che vedere con l'ambiente in cui siamo, cioè con il resto dell'ambiente dove siamo, con la nocività, la non nocività, la possibilità di promuovere la salute, intesa in un senso più complesso rispetto appunto all'assenza di malattia, o allo stare bene fisicamente. Quindi, ecco, rispetto al tema sull'importanza di valorizzare l'esperienza personale, piuttosto che semplicemente individuale, è questa, e io direi che però questo appunto va necessita per una trasformazione di essere inserito in dei contesti più collettivi, di trasformazione di un'alternativa. e sono completamente d'accordo sul fatto che qualsiasi tipo, o meglio, abbiamo bisogno, cioè non solo è legittimato, abbiamo bisogno di diversi livelli di lotta per portare avanti questo tipo di logica, di logica di cura, di logica riproduttiva, o di riproduzione, scusate, o di rigenerazione. Negli anni, nei decenni, i movimenti prefigurativi, menzionavi già prima, in parte, hanno fatto questo lavoro, in parte, di mettere in pratica nel presente un'alternativa. Quindi, gli esempi li abbiamo, no? E comunque esistono anche, nel momento, prima in cui parlavo di vivere la crisi climatica, o la crisi ecologica come processo, invece che come qualcosa che succederà in futuro, quotidianamente diversi soggetti, non so, a me viene da pensare, per esempio, ai contadini, alle realtà agricole piccole, si confronta quotidianamente con la crisi climatica e con dei processi che richiedono anche una cura ecosistemica per riuscire a viverci dentro e anche a creare un'alternativa. Quindi, ecco, dal mio punto di vista, c'è tutta una galassia di pratiche che già esistono, che mettono in pratica anche, che incorporano concetti di limite e concetti rigenerativi. Però, allo stesso tempo, è evidente questo, insomma, forse l'ultima ondata di movimento climatico ce l'ha fatto notare in modo preponderante, c'è la necessità del conflitto, del portare anche la critica al sistema, non soltanto praticare l'alternativa, ma alzare il livello anche dello scontro, se vogliamo. Probabilmente non, cioè, per me sicuramente non nell'ottica di richiedere al sistema un cambiamento, quanto forse di cercare di scavarsi o di prendersi degli spazi dentro questo sistema di liberazione per poi praticare delle alternative. A me sembra, la mia sensazione è sempre che queste due anime che hanno a che vedere con la risposta alla crisi climatica, quella più prefigurativa, chiamiamola così, e quella più antagonista, abbiano un po' delle ondate. E forse si sono parlate solo fino a un certo punto, fino adesso, uno spazio probabilmente interessante potrebbe essere quello di un'intersezione di queste sensibilità, di queste pratiche, eccetera. Ecco, ovviamente, da quello che già dicevo, viene, penso che emerga già l'idea comunque dell'importanza di quella che viene chiamata intersezionalità, poi io ho sempre qualche difficoltà con questo termine, nel senso che dà come l'idea che ci siano diverse lotte che si incrociano, quando probabilmente forse è più utile anche pensare alle lotte dentro una matrice comune, di alternativa e di critica. Però chiaramente, comunque, come vogliamo chiamarla, la consapevolezza che è necessario rispondere al complesso di quella che è la crisi climatica, forse possiamo chiamarla la crisi del sistema, su tutti i livelli, insieme rendendosi conto di come questi livelli effettivamente si intrecciano. Scusate, dal mio punto di vista l'altra, se vogliamo, parola chiave estremamente importante è quella della decolonizzazione delle lotte che non ha semplicemente a che vedere, cioè che non va ridotta all'idea, sì, dell'inclusione, dell'inclusione della voce dell'altro dentro la nostra politica, eccetera, eccetera, ma è una decostruzione della posizione soggettiva da cui partiamo, anche dell'idea di come è possibile portare avanti una transizione o comunque una trasformazione ecologica, cioè mettere in discussione la soggettività dominante, cioè per dire hai menzionato il tema dell'innovazione tecnologica in quanto, cioè in relazione alla transizione, che sicuramente sarà un tema centrale, nel senso che avremo bisogno delle tecnologie, no? però allo stesso tempo anche l'idea che l'innovazione sia quella che ci permette di fare quel passo lì è dal mio punto di vista estremamente coloniale perché nasce da un posizionamento molto bianco, molto capitalista e abbiamo bisogno di decolonizzare lo sguardo anche su questo, su quali sono gli strumenti. Adesso si parla, parlando di transizione, anche dell'idea di retroinnovazione, cioè di in qualche modo tirare il freno a mano, non tanto per chiamare Benjamin in questo, e fermarsi e mettere a tema quello che ci pare essere, no? La direzione di trasformazione per probabilmente anche rivalutare se c'è la possibilità, per esempio, non lo so, di forme più conviviali, più democratiche di gestione dell'innovazione della tecnologia, quindi secondo me ecco, questo è un punto importante e chiaramente il tema della decolonialità è importante anche nell'ottica dello smontare quel dispositivo di creazione della natura come esterna e quindi poi anche di tutta una serie di soggetti che vengono svalorizzati in questa cosa qui. ecco un punto che secondo me è molto interessante rispetto o il modo in cui mi piace leggere anche i movimenti contemporanei e non so, penso anche all'effetto che fanno alcune delle pratiche che hanno a vedere per esempio Extinction Rebellion Ultima Generazione e che a me danno l'idea di delegittimare comunque le istituzioni e la loro risposta al cambiamento climatico rendendo evidente l'assurdità delle modalità che vengono messe in campo è è di una delegittimazione cioè ecco mi pare che queste pratiche mettano in evidenza l'incapacità delle istituzioni a rispondere senza tanto richiedere quel cambiamento quanto semplicemente chiamandoci alla necessità di superarle quindi ecco nel senso semplicemente questo era un ultimo appunto che mi fa pensare nel presente a delle pratiche che magari conosciamo che vediamo quotidianamente e che possono essere anche intersecate con invece forme appunto più prefigurative di costruzione di alternativa